Il 2017 inizia per l'Arezzo Fiere con un'importante novità all'orizzonte, un'aggregazione di filiera con IEG, gruppo nato dalla fusione di Fiera di Vicenza, con cui la Fiera Aretina aveva già raggiunto un'intesa per la gestione coordinata del calendario degli eventi e Fiera di Rimini. Nel momento siamo in una fase di trattativa dopo due anni di accordo che ha visto oro Arezzo crescere di oltre l'80% e ha visto col dita di triplicare, quindi un accordo che sicuramente dando un quadro più chiaro e soprattutto concordato delle date degli eventi ha consentito una crescita che non c'era stata per gran tempo ad Arezzo. Quindi ovviamente quell'accordo già prevedeva che ci fosse una fase ulteriore di ulteriore avvicinamento appunto tra i due enti sempre sotto legida del Ministero. Stiamo proseguendo e devo dire siamo a un ottimo punto. Un'aggregazione non societaria perlomeno per il momento? Assolutamente no, noi stiamo parlando di integrazione di filiera orafa finalizzata ad avere un unico referente per il governo italiano ma anche per le imprese che definisca quello che è il calendario e quella che è la politica promozionale in Italia e all'estero. Ovviamente come ogni cambiamento ha bisogno di tempi certi, ha bisogno di assestamenti ma sicuramente darà la possibilità di avere grandi investimenti sul territorio e una crescita ancora più veloce della crescita effettivamente importante che c'è stata negli ultimi tre anni. Una trattativa dunque addirittura d'arrivo che potrebbe trovare il suo compimento entro gennaio. Se un progetto si regge industrialmente deve essere fatto nei tempi più rapidi possibili per dare certezza all'impresa che fa il progetto ma anche alle imprese che partecipano alle fiere. Quindi sicuramente i tempi saranno stretti e passeranno da una piena condivisione con il settore orafo principalmente e quindi con le imprese di Arezzo. Poro Arezzo e Gualdita, lei prima ha già dato i numeri, comunque rimarranno certamente ad Arezzo? Assolutamente sì, questo è una condizione sine qua non per qualunque tipo di accordo. Questo è il primo distritto d'Europa, il primo distritto d'Europa non può che avere le sue fiere.